Non si è parlato molto forse di donne in gravidanza, però è una situazione molto delicata perché ci sono non una persona ma ben due persone a rischio. Io personalmente sto seguendo tutte le indicazioni che la nostra azienda sanitaria mi sta dando e invito tutti a informarsi perché è importante, non solo per la vita della mamma ma anche per la vita del nascituro. È una testimonianza che vale doppio, anzi triplo, quella di Lidia Tomasella, sindaco di Codognè e presidente del comitato dei primi cittadini del distretto di Pieve di Soligo ma soprattutto futura mamma. In dolce attesa ha partecipato il sopralluogo del generale Figuolo al lab vaccinale di Villorba, commissario straordinario che proprio dal Trevigiano è ritornato sulla necessità di immunizzare le donne incinte. Ma l'appello di Tomasella che invita di fidare dalle fake news è rivolto a tutti perché la gravidanza sia tutelata in ogni sua fase. Fiducia nella scienza e spirito di comunità devono fare la differenza. Le donne in gravidanza ad esempio nei primi tre mesi non possono vaccinarsi, quindi è fondamentale che la comunità faccia scudo alla mamma e al futuro nascituro. Quindi vi invito veramente caldamente ad informarvi, a prendere tutte le conoscenze corrette del caso, lasciate perdere i social e fate quello che la scienza e i medici ci consigliano. Quindi vaccinatevi perché è fondamentale.